La Coppa America farà dunque tappa a Napoli. Sciolti mercoledì pomeriggio gli ultimi dubbi in una conferenza di servizi fra il Comune, le soprintendenze e gli altri soggetti istituzionali. Il parere favorevole ai lavori, che partiranno lunedì 6 febbraio, è stato ottenuto anche in virtù della qualità del progetto, che non si limiterà a fare e disfare le opere funzionali alla gara, ma punterà anche a riqualificare la spiaggia cittadina, ad assicurare i lavori di manutenzione per la villa comunale, a ridimensionare la scogliera a ridosso del muretto borbonico di via Caracciolo per ripristinare la linea di costa e l'estetica del lungomare. Abbiamo colto però l'opportunità, anche con l'intesa sia della soprintendenza sia anche del progetto alle opere pubbliche, per avviare un processo virtuoso che ci consente anche di anticipare scelte che sono nel piano regolatore. Servirà anche per consegnare alla città un pezzo della città stessa che è stato fino ad oggi martoriato dagli interventi fatti. Noi prevediamo, secondo il cronoprogramma, che dal 6 febbraio ci sia l'avvio concreto delle attività e intorno al 23-24 marzo avremo il loro completamento. La città rivedrà a fine aprile via Caraccio la villa comunale restituite come erano il muro, come era nell'Ottocento. Questo risultato è il frutto del serio lavoro condotto da tutte le istituzioni, ha dichiarato il sindaco De Magistris. La prima tappa europea della Coppa America sarà un grande evento che risponderà alla vocazione naturalistico-paisaggistica di Napoli e si trasformerà in un volano economico, turistico e occupazionale per la città. Le gare della Coppa America si svolgeranno dal 7 al 15 aprile.